la partenza sembra valida anche se non abbiamo sentito assolutamente il segnale e così al comando cerca di andarci il numero 3 Rumbi che assume il comando nei confronti del numero 11 Rolly Mill poi il numero 1 Rani Almar mentre ci sono state delle rotture ha squalificato il numero 5 Red Alter e così al comando c'è Rumbi nei confronti di Rolly Mill all'esterno avanza il numero 10 di Raggio di Luce che va su Rumbi che sbaglia e così vediamo adesso la situazione con Rumbi che vuole togliersi a destra anche se Rolly Mill Rolly Mill non sembra intenzionato a rubare la posizione a Raggio di Luce che ha dovuto riprendere in mano e così Raggio di Luce e battistrada nei confronti di Rolly Mill poi il numero 1 Rani Almar seguito nell'azione dal numero 9 di Rialba LL poi il numero 7 mentre a tabellone ci sono anche il numero 6 Rossellino e il numero 5 Red Alter e il numero 2 Roger degli Ulivi Raggio di Luce che guida quando i cavalli transitano adesso ai 1100 un po' caotici si è andati insomma un po' in mano per non rischiare nulla purtroppo piove incessantemente Raggio di Luce però nella posizione che voleva anche Rolly Mill in ottima scia poi Rani Almar all'esterno il numero 7 Rob Damaschi Mark che si trascina il numero 4 il favorito Rubea S lungo lo steccato anche Rialba LL Cavalli che adesso transitano su una curva arrivano ai 600 finali con Raggio di Luce che la percorre in 16 e mezzo c'è la mossa in mezzo alla pista di Rubea S Rubea S che vuole scavalcare Rob Damaschi Mark e andare a tiro di Raggio di Luce si trascina Rialba LL lungo la corda Rolly Mill Adesso Rubea S ai fianchi di Raggio di Luce in terza ruota Rialba LL che da un parziale Rubea S non sembra potersi opporre a Rialba LL che con una volata va sul Raggio di Luce Nello Gabor che con Rialba LL passa al comando Rialba LL che si sta distaccando dalla compagnia con Rialba LL che vince facile 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 mentre per il secondo probabilmente l'undici di Rolly Mill sull'uno di Rani Almar La vittoria nettissima e facilissima per Rialba LL con la training di Marco Marini Nello Gabor in Salchi la quota di 53,78 È tutto